dunque con l'acne primus uno muore l'altro sopravvive ma dobbiamo anche parlare in questo momento del fatto che in contemporanea lì sotto la parete nord c'è una cordata non forte di più si tratta di mattia rebisch una cordata monachese composta da mattia rebisch e ludwig vorg mattia rebisch ha in quel momento vediamo qui nella foto a 25 anni è il più forte arrampicatore dell'epoca di lui si dice che già in quegli anni avesse superato passaggi di settimo grado quindi 35 anni prima che questo grado di difficoltà venisse in qualche modo certificato dagli enti è comunque un alpinista straordinario molte delle sue vie aperte su roccia sono state ripetute decine di anni dopo per la difficoltà estrema che riusciva ad affrontare in quell'epoca vorg è un altrettanto bravo e soprattutto molto molto esperto di ghiaccio quindi è un'accordata fortissima sanno che ci sono questi due in difficoltà sulla nord est e loro vanno ripetono la via lauper e poi si portano la capanna di miteleggi convinti che questi siano scesi dalla cresta ma ovviamente non li troveranno aiuteranno poi al recupero della salma nei giorni successivi questa forte cordata con due amici porta un po' di materiale in parete e vediamo che qui in un'immagine affrontano lo zoccolo salgono e proprio sullo zoccolo incappano nel cadavere del loro amico e compagno scorparso l'anno prima in testo esser l'incontro è un incontro importante all'inizio pensano di andare avanti ma poco dopo lasciano il materiale in alto di rinuncia noi con gli altri recuperano la salma e scendono giù alla base della parete riportando la salma di interstoise che viene recuperato in questo modo sprecano qualche giorno di bel tempo poi ne arrivano altri di brutti arriva una nuova ondata di bel tempo e loro partono per la salita a questa parete avendo il vantaggio di aver lasciato materiali in parete molto in alto la loro intenzione è quella di bivaccare nella parte bassa e poi superare la parete o arrivare molto in alto e fare un bivacco all'esterno nella parte alta hanno studiato molto bene la parete e tra l'altro poi della loro ascensione lasceranno una relazione molto dettagliata che sarà estremamente utile per gli altri i due vanno veramente forte sul pilastro spezzato e qui vediamo un'immagine rebisce lo supera addirittura senza assicurazione arrivano quindi sotto alla rot full e a sinistra affrontano una traversata intestoiser la traversata intestoiser viene affrontata non col sistema del pendolo ma in arrampicata è praticamente orizzontale qui vediamo un'immagine di rebisce impegnato nella traversata intestoiser e oltre bivaccano hanno un punto particolare di un bivacco proprio protetto da un tetto nel quale si mettono lì fanno una specie di ringhiera con le cinghie ma la notte sarà durissima perché in verità scorre acqua dappertutto e quello che pensavano dovesse essere un bivacco bellissimo si trasformerà in un bivacco non certo molto buono quel punto di bivacco particolare da lì in poi sarà chiamato nido di erondine dove loro si sono accovacciati dentro subito dopo il mattino vorga affronta il primo nevaio è uno molto bravo su ghiaccio tra il primo e il secondo nevaio devono trovare delle vie alternative su roccia perché il ghiaccio un po infimo tende a staccarsi a spezzarsi lo fanno a sinistra e quando si è su roccia passa davanti rebisce naturalmente che cerca di andare su salgono in maniera abbastanza veloce fin verso il ferro da stiro ecco qui vediamo nell'immagine il la parete con il tracciato dei dei due che che hanno effettuato e vediamo fin dove sono arrivati sopra il ferro da stiro loro a un certo punto il tempo peggiora sensibilmente fanno un pezzettino avanti individuano la possibile via del salita di quella che sarà sulla lampa ma devono per forza bivaccare il bivacco è molto duro il tempo peggiora sensibilmente dal basso la preoccupazione è altissima anzi per la verità ormai si pensa che i due alpinisti sono spacciati in verità il mattino successivo mattias rebisce e ludwig vorg inizieranno la discesa una discesa complicata difficile qui vediamo un'immagine della di una delle tante doppie che dovranno effettuare in discesa per scendere lungo la parete ma pian pianino si portano giù verso il basso in basso sentono delle voci che chiamano sono otti e miller i due loro compagni che gli avevano accompagnati che sono lì a gridare alla base della parete sono andati preoccupati per gli amici sono arrivati fino alla base stanno salendo un pezzettino dello zoccolo per vedere se in qualche modo possono essere d'aiuto ma i quattro si incontrano e li vediamo poi festeggiare a grindelvall eccoli tutti e quattro perché i due otti e miller avevano effettuato la prima salita alla parete sud est dell'aiger una parete che le guide locali di grindelvall ritenevano assolutamente impossibile e loro erano riusciti a salirla quindi c'è una grande contentezza dei quattro mattia rebisch farà dicevo una relazione importante dirà esattamente quali sono i punti chiave punti di passaggio ma non soltanto lui partirà poi l'anno successivo è uno dei componenti della spedizione che salirà l'ottomila il nanga parbat lui purtroppo in quella spedizione si dovrà fermare a 7.300 metri di quota non raggiungerà la vetta ma sarà determinante per la salita motivo per il quale dovrà rinunciare la sua velleità sulla parete nord dell'aiger il compagno viceversa ludivvorg l'anno successivo sarà invece uno dei componenti dell'accordata che conquisterà la parete grazie a tutti